Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Iniziamo un'altra serie di vlog che penso raccoglierà più giorni. Mi trovo meglio a fare così, almeno vi faccio vedere più cose. I video durano di più che so che vi piacciono e non sto insomma a parlare di cose che magari non c'entrano nulla. Mi sono appena finita di truccare, ho messo queste lentine molto chiare che infatti devo capire se mi piacciono o meno. Vabbè ormai le ho messe, le ho sprecate quindi le lascerò. Comunque oggi qui in Corea è il Chuseok che è praticamente come se fosse il ringraziamento coreano. Vabbè in giro c'è sempre un sacco di gente quindi ok, però molti dei negozi le cose sono chiuse, le persone stanno con le proprie famiglie, si mangia, si beve eccetera eccetera. Tra l'altro oggi sono arrivate anche alcune delle mie amiche, non è ancora arrivata Ross ma probabilmente arriverà presto, ma arriverà tra esattamente 5 giorni. E quindi andiamo a fare qualcosina questa sera. In teoria non so neanche se mi vada di cambiarmi perché se mi gira esco direttamente così. Prima sono uscita così per andare a fare la spesina, ho preso giusto due cose. Anzi ve le faccio vedere perché mi sono piaciute molto, almeno me le ricordo anch'io se poi le riguardo. Allora questi sono i famosissimi guimmarie, sono appunto questi involtinelli qua, dei vermicelli di riso, un po' piccantini, oli ad oro. E poi ho preso questi che invece sono i mangi sempre con i vermicelli e la gogui con la carne. Quindi diciamo per pranzo prima ho mangiato quelli. Sono pallida oggi, ma ci sono pallidissima. Non so se è perché ho lavato i capelli ancora e sono diventati ancora più bianchi, ma mi vedo super chiara. Nel mentre stavo guardando qualche video su YouTube, qui sono le 5 di pomeriggio, quindi adesso metto un attimo a posto perché qua c'è tipo la mia sezione beauty, vedete? Tra l'altro ho anche provato il mascara, quello che ho comprato l'altro giorno. È molto carino ma non capisco perché queste ciglia mi piacciono, queste no. Cioè sembrano due occhi diversi. Siamo venuti al posto del maialino di Gaggio dell'altra volta. Spero che se venite qua dovete fare il menù, da quello che abbiamo capito più o meno. Quindi tre menù e c'è la carne più un primo credo, sì. Doverebbe essere... Le mette, mettila tutta. Al centro e quando è cotta hai il lato. Vai Laria, faccia sto porco. Buongiorno ragazzi, oggi è appunto un nuovo giorno. Mi sono appena svegliata quindi perdonatemi la faccia. Stanotte è stata un po' turbolenta. Ho avuto un leggero mal di pancia quindi mi sono alzata e risvegliata a stare in un casino. Comunque siamo qui, ci siamo. Oggi è una giornata importante perché dopo mille volte che sono andata lì, mille casini perché adesso vi spiego, vado finalmente alla Hype Museum, insomma al museo vero e proprio della Hype. Sapete che ogni tanto giro l'intorno, che ci sono i caffè, le cose, insomma vado, registro. Al museo finalmente siamo riusciti ed è tra l'altro l'ultimo giorno in cui posso proprio andare. Stavo aspettando che appunto venisse la mia amica così andavamo insieme. Da oggi che è l'11 poi lo chiudono perché da domani che poi è il 12 verrà chiuso per lavori barra faranno praticamente proof exhibition, tipo la mostra di proof insomma. L'ultimo giorno ce l'ho fatta per un pelo perché anche l'altra volta che sono stata in Corea era chiuso. Stavolta ho giusto in tempo, quindi ci facciamo questo bel giro. So già per certo che là dentro noi ci possono fare i video, però ovviamente poi vi metterò le foto e vi farò una sorta di tipo, non lo so, college. Vediamo come organizzarci. Comunque, colazione di oggi. Allora, il mio fantastico latte e caffè. Poi abbiamo un samgyong kimbap, questo qui sempre con tonno e maionese è il mio preferito e soprattutto colazione c'è una cosa salata che riesco a mangiare meglio. E poi penso che mangerò anche uno di questi uovi semi polliti. Oggi rispondo anche a un po' di domande che mi avete fatto. Perché da quando sono arrivata qui, che PS, sembra ho infinità di tempo, ma in realtà è tipo una settimana e mezza forse. Prima domanda che ricevo spessissimo sulla borsa. Questa qui è la borsetta che porto in giro perché è stra comoda, come vedete. Ha sia la tracolla, vabbè, qui ci ho attaccato le mie spillettine, e poi appunto dentro è stra mega capiente, ha le tasche, e qui ha le taschine qua davanti, vedete, ci metto la testa della metro, qua le carte, quindi è veramente stupenda. Questa qui l'ho presa sul sito di YesStyle. Come ad esempio io ho preso anche queste. Queste le mettete così, per dare un po' di volume sulla radice. Quindi vi lascio i link qua sotto, andate a dare un'occhiata, e adesso make up. Ho preso due protezioni solari differenti. Una è questa qui, cushion, che è stra comoda da portare in giro, perché appunto ha il cuscinetto, quindi potete tap tap e la ritacciate durante la giornata. Oppure oggi andiamo ad utilizzare questa qui, che è anche una base illuminante, con appunto la protezione. La protezione solare, mi raccomando, è sempre importante. Base velocissima con un po' di correttore. Poi applico questo che è bellissimo, guardate, sembra la boccettina di uno smalto. In realtà è un blush liquido, tra l'altro di un colore bellissimo. Io lo sfumo con il pennellino, ma lo potete fare anche con le mani, volendo. È allo stesso tempo luminoso. E tra l'altro ha un odore di pesca assurdo. Per le sopracciglia utilizzo questo prodotto qui, che è un mascara colorato. Guardate che carino l'applicatore. Ci ho messo letteralmente tre secondi. E poi con la matita, che trovate appunto sempre sul sito, con la matita riempio giusto la fine dove proprio non ho i pelettini. Punto focale del tutto, questo eyeliner. Questo eyeliner vi cambierà la vita. Molti pensano che l'eyeliner con il pennellino sia più complicato di quella penna. Ma per fare il tipo di eyeliner che mi avete praticamente richiesto tutti, che adesso vi faccio vedere, questo è molto più semplice. Non passo per... non applico per niente l'eyeliner nella parte sopra. Mi concentro soltanto nella parte esterna e interna. Quindi accompagno la linea in questo modo. Veramente super semplice. Poi mi concentro nella parte avanti. Guardando dritti, cercate di tirare la lineetta in questo modo e chiuderla. Il segreto per fare questa cosa è non farla troppo grande. Siete impazziti nei DM di Instagram quando vi ho fatto vedere queste cigliette, quindi le riapplichiamo. Prese sempre sul sito ovviamente. Ce ne sono tantissimi tipi. Vedete che carino l'effetto di queste ciglia. Ovviamente poi adesso ci vado a passare un po' di mascara e sembrano proprio super naturali. Ultimo passaggio, questa qui che ha la tinta. Picchietto con le dita. Anche questa si fissa e rimane. E quindi questo è il nostro make-up sostanzialmente. Ripeto, trovate il link dei prodotti qui sotto. Ed ora si va. Siamo venute in questo posto che è tutto un po' brandizzato anche qua oggi giornatina così tranquilla. Vi danno questo foglio dove insegnare le cose. Ci ha consigliato più che altro perché la mia amica non mangia piccante di prendere questo qua. Poi abbiamo aggiunto i cheese e abbiamo fatto questo menù che praticamente ha tutte queste cose qui che leggete. In più è quella del compleanno di Namjoon che è domani, quindi abbiamo preso questo. Allora sono arrivate queste che sono per fare praticamente le polpettino. Ora vi faccio vedere come si fanno. Dopo che mi sono vista tipo 850 video di persone in Corea ho capito come fare qualsiasi cosa. Sì. 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 Allora non ho capito perché. Mi parlano tutti in Corea. Allora mi hanno dato il grembiolino di spazio. Allora vi faccio vedere come fare le palline qua di reso. Metti il guantino e praticamente questi lì li costi così. Li rompi tutti. Sì. Si fa la pallina. Se c'è un altro guanto è proprio igienico. E poi le metti qua. Palline fatte. Poi ci hanno portato i mandù fritti. E qui abbiamo davanti il nostro tupochi che vi farò vedere. Poi qua usano bere il zucco di pesca quando qualcosa è troppo piccante. Perché si tempera. Guardate. Non è più tante. No. Non c'è roba se da sopra. Siamo sul ponticello. Guardate che bello. Qua si vede anche bene che stanno facendo i lavori. Non c'ero ancora salita qua effettivamente. Questo è tipo il ponte di Las Vegas. Mi collega le cose. Siamo venuti all'altro baretto qua. Ci siamo presi un po' di cap. Mi dice che... Dai ma poi la mia sortè. La mia sortè. Ah c'è anche una di Jimmy. Sì. Ma che poi mi sa che questa già ce l'ho. Ma che ne so. Comunque stanno organizzando per l'evento di Nanjoon. O di domani. Ok siamo entrate. Un pochino in anticipo. Abbiamo preso le nostre card. Che vi fanno... Quanto costa? Vabbè vi scrivo i prezzi qua. In realtà la potete personalizzare. Solo che a me non mi hanno fatto scegliere il nome. Quindi mi hanno messo il... Il nome culo dell'account su Wevert. Quindi aspettiamo di entrare. Non so cosa vi potrò riprendere. Qua sa no. Adesso poi ce lo tiranno. Qui c'è per prendere la card. E questa è la sala d'attesa. Praticamente. Allora quando andate poi sulla vostra reservation qua. Ci sono. Qua sotto trovate. Da sotto potete scegliere il vostro artista che vi darà il benvenuto diciamo. Di queste. Ok. TXT e Night Band. E abbiamo tre che sono stati selezionati per i nostri Bangtan Boys. Giustamente. Hobie. Amore. Chimin. Che carino. Lo selezionate e vi mettete le cuffiette presumo. Eccolo qua. Amici da casa. Siamo appena uscite. Ci abbiamo messo un po' in realtà. Perché siamo entrate le 5 e mezza. Perdonami. Sono le 7 e 22. Allora. Sequestrate. Ve lo dico. Voi vi sentite proprio sequestrate. Cioè non nel senso positivo. Perché cioè il primo piano io l'ho sofferto devo dire. E a me mi piace. Stavo lì a vedere. Vede vede vede. Però no certo. Dopo che il video l'hai visto tipo 66 volte. È un po' too much. Io guarderei meglio i tempi. Le tempistiche. Vai entro. Le tempistiche. Comunque siamo uscite che è notte. Notte alla hype. Quindi ripeto. Sì. Venire. Ma non so se ci tornerai più di una volta. Sinceramente. Cioè a meno che non cambiano qualcosa dentro. Perché adesso c'era. Poi quando fanno quella di proof. Magari riusciamo a ritornare. E quindi niente. Questo è stato. Ora caricherò un po' di foto. Non i video. Perché non si possono fare. Avrò voluto fare la foto. I microfoni erano bellissimi dal vivo. I microfoni quelli vecchi. Tutti pieni di brillantini sopra. Bellissimo. No non potevi fare niente. Solo per i microfoni vale la pena. E gli outfit di Mic Drop ragazzi. Io. Se c'erano quelli di Black Swan. Quella col bottone saltato. Invece no. Evidentemente li dovranno riusare. Li stanno mettendo a posto. Andiamo a questo qua. È di Acoffee. Andiamo in un caffè che non è brandizzato. Ah pure. È una cosa fresca. Non so quale provare. Forse provo questa. Qua. Che dovevo dire quanto è zuccherato. Serve tipo una torta di crepe col gelato in mezzo. Siamo scese a una fermata. Ora dobbiamo scendere qua. Questo è il nostro primo approccio sulla river comunque. Piano di insettini perché li sento comunque nel lato. Qua dove si prende la bici. Poi una volta dobbiamo prendere bici. Siamo arrivati ad un punto dove ha la mia capella. e hanno una forma ambigua ma è l'umidità del fiume. Questo unboxing. Ma è tutto bene. Anche perché la cosa che costa di me. Quanta era? 3.000? E 9.000 ve lo dico per sicurezza. Il washi tape di Permission to Dance. Qual è preso alla fine? C'è anche di Butter se vi interessa. E poi ebbe quelli degli altri gruppi insomma. Comunque stiamo aspettando Jenna che è l'altra ragazza. Sta qui con noi che... Vabbè Jenna non guarda i miei video. Tanto non capisce l'italiano. Diciamo che si perde facilmente. Quindi non so. Sta tipo a mezz'ora di camminata da qui. Quindi sì. Senti è il burteo. Ma da prendere uno dei miei kimbap. Eccola. Don't worry I'm coming. E quindi niente. Questa è la nostra strada. Comunque siamo noi di qui sulla river. Quindi ci prenderemo qualcosa. Qui di solito vengono a fare i picnic. Resumo questo sia anche il ponte dove esce fuori l'acquetta con le lucine. E' anche uno dei ponti dove girano i vari gay drama. Perché mi sembra di averla già vista questa stagionata sotto. Siamo arrivati nel punto di ritrovo per questa avventura fantastica. C'è anche la Cree qua con me. Cree saluta. La metro raga così. La metro così. Letteralmente tutta Seula in metro stamattina. Quindi adesso aspettiamo il nostro mezzo di trasporto. Dopodiché penso ci vorrà un pochino per arrivare a mettere a dormire. Sicuro, probabile. Il pico a basso delle scampagnate boreane. Devo dire carino. Guarda anche qui i dettagli in oro. Questi che ricordano un po' i clappers. Esatto. Il concetto di seguito. Comunque noi troviamo sempre qualche repera. E niente. Questo è il nostro piccolo passo. Carino a lei gli iniziano il discorso e poi ripondo al telefono. Lei sembra molto carinella. Già prima mi ha chiesto. Nome? Sì, ti ho segnato sul telefono. Ah, questa è un'altra qua. Io vi dico tutti i step che stiamo facendo. Ha fatto tutta la cintura. Poi vi metto il link del sito da cui abbiamo prenotato. Che è facile. C'è il numero WhatsApp. C'è tutto in inglese. Giusto? Ok. So, by the way, I'm your tour guide. As you can see, my name is Moon. Just like the moon. Very easy to remember, right? So please remember my name and my face. Because there will be lots of people at the DMZ. I don't want to lose anybody. And I gave you my name tag, right? A parte io e Krika siamo sempre completamente... Cioè, noi sempre in tema. Guardate. Questo è il nome della nostra guida. Ma che carina che si chiama Moon, vi giuro. Comunque siamo arrivati. E ora dobbiamo aspettare sul pass. Sarà il nostro piccolo pulmino. Sopra si può andare a vedere qualcosa. Ma ha detto che tanto qui si può vedere giusto lo scenario. Ma io comunque, col fatto che c'è stato il Chusok qualche giorno fa, ci ha spiegato che appunto molte persone che magari hanno la famiglia dall'altra parte sono venute qui. E hanno portato, vedete, queste cose poggiate, liquori, frutta. Anche perché come sapete, o se non sapete ve lo sto dicendo io adesso, ovviamente tra Nord Corea e Sud Corea non c'è comunicazione di nessun tipo. Quindi né digitale né scritta, lettere, cose, niente. Quindi se appunto ci sono persone che durante la guerra sono state prese, portate all'altra parte, eccetera, sono lì fine. Infatti ci stava spiegando che a un certo punto hanno fatto questo programma dove la gente chiamava per ritrovare i parenti. E qui c'è infatti il monumento, diciamo, di questa cosa. Con tutte le varie foto del programma. Tra l'altro ci hanno detto che ci stanno ancora un sacco di mine in giro di seguire sempre il percorso. Non perdersi perché, ha detto, ovviamente può essere leggermente benicoloso. Tipo questo ponte, cioè, non è che mi espiri molta fiducia, sincera. La musica effettivamente è molto singolare, avrà un significato, presuppongo. Comunque fa stranissimo sapere che davanti a me in questo momento c'è il Nord Corea. Andiamo a leggere. Comunque guardate tutti i fori di proiettile, oggi facciamo un po' di storia. Questo andava fino alla capitale? Sì, questo qua. Questa è la zona sotto dove stanno i bus. Sentite l'left and right. Ovunque andiamo, ovunque. Comunque questa qui è la gondolina che vediamo prima da sopra. Praticamente potete entrare qui. E non so bene, questi sono i costi. Non so se volete tradurre qualcosa. Però mi fa rite che si chiama gondola. Cosa importante da ricordarsi? Portare il passaporto. Anche se ha detto che chi non ce l'ha, basta che glielo si dice, non so, in qualche modo faranno. Però dovevamo incontrarci alle 10 in teoria per iniziare il tutto. E già ci ha detto che in realtà è le 11, quindi dobbiamo aspettare un'altra ora. Quando paghi, non è gratuito. Devi pagliare, certo? Ma l'amount di money è circa 5.000 dollari. Quindi le persone che vengono da NK, o le persone che sono descendenti da NK, vengono qui per la Ceremonia Ancestorsi. E io credo che la foto dentro deve essere da NK. Carina che Moon ha notato lo stile. Mi ha fatto mezzi, 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 mezzi. Intanto lo sapete, io ho nero, ho lilla, viola. Quindi insomma, comunque c'è tutta la parte qua sotto dove non eravamo scese. Ah, le carpe ci stanno. Belle, guarda davanti. Siamo appena state nei tunnel, letteralmente. Un'umidità che non vi dico, non si può riprendere, non si possono fare foto. Nulla, comunque vi fanno mettere l'elmetto. Mettetevelo. Mettetevi un po' di capocciate. Perché io sto... Cioè io dovrò dato almeno 3-4 capocciate. Cioè ti devi accucciare tutte. Adesso dobbiamo vedere un video. Sequestrate ancora una volta. Comunque questi giorni mi sento proprio così. Sono salita un attimo perché vi volevo far vedere il trenino. Ma non so se posso avvicinarmi più di tanto. Comunque qui e vi portano giù per il tunnel. Questo è il tunnel numero 3. Infatti ci sono i caschettini, vi faccio vedere. Eccoli qua. E questo appunto è il trenino. C'è l'entrata del tunnel. Allora, per un punto è molto claustrofobica la situazione. Quindi se appunto vi danno fastidio o cose del genere, non andate. Il souvenir ci ha detto che possiamo comprare i fagioli ricoperti di cioccolata. Probabilmente una cosa del genere. Ha raccomandato di prendere questi. Quindi quando vai fuori, vedrai due fagioli. Ok, tutto quello che c'è da questa parte, quindi è Nord Corea. Questa è la bandiera della Sud Corea. E questa qui è la bandiera del Nord Corea. Tornata alla casetta, adesso voglio solo riposarmi perché sono stanchissima. Non so neanche quante poche ore ho dormito e appunto proprio via da presto e tutto. Però è un'esperienza che sicuramente è molto 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 interessante. Abbiamo pagato circa 57-60 euro, insomma più o meno 60 euro a testa per questo tour. Vi metto appunto tutte le info, nell'info box se vi interessa. Adesso appunto ci riposiamo, ci siamo separati, ognuno a casa sua. Poi stasera andiamo a Itaewon. Buongiorno, altro giorno. Ormai non so più quanto sto riprendendo perché ieri ad esempio ho preso una macchinetta, volevo riprendere e mi diceva memoria piena. Io ero tipo, in che senso memoria piena? Quindi non vi ho potuto registrare dove siamo state ieri sera. Praticamente abbiamo fatto un po' di giri per Itaewon. Siamo andate a vedere appunto il Dangpan, che è il locale, quello dove hanno girato Itaewon Class. E poi siamo tornate invece nell'altro locale, che sta qua vicino a dove sto io, che è il locale del cattivo, tra virgolette. Insomma, se avete visto il dramma lo sapete, sta qui dietro. Quindi poi siamo andate a mangiare lì, anche perché è un posto che ha aperto 24 ore su 24. Detto già, comunque adesso colazione, perché mi sono svegliata tardi ma dovevo recuperare un po' di sonno. Ho dei capelli orribili, non so che cosa ci farò oggi per poterli sistemare. E tra l'altro questa mattina devo stare a casa, devo mettere a posto lo stendino con i panni che ho steso, per vedere, non so, sono tipo tre giorni che stanno lì, quindi hanno certa, penso si siano asciugati, vediamo. Devo montare appunto un video per la rubrica sprazzi di vita quotidiana in Corea. Sto cominciando a mettere un po' a posto e a pulire la casa, perché domani arriva la mia conquilina. Il problema è che poi dovrà organizzarsi tutto quanto. Quindi qua la parte dei vestiti, tra virgolette, lì ci sono i miei vestiti, che non so come altro mettere, quindi ho preso le scatole. Stavo anche appunto pulendo, anche se qui è un po' così, nel senso ho trovato queste salviettine, le sto usando per lavare per terra letteralmente. Ho messo un po' a posto la cucina, anche se non sembra, lì c'è il detersivo per pulire il bagno. Qui, vabbè, ci sono ancora le cose stese che sono ancora un po' umide. Per fortuna che Ross porta il mini ferro da stiro, perché questi giorni appunto io non lo avevo. Stasera devo anche lavarmi i capelli. Prima stavo morendo di mal di testa, vi giuro. Mi deve venire il ciclo, ovviamente. Sempre per sprazzi di verità dalla Corea, non prendete la metro nell'orario di punta. Cioè non lo prendete, vabbè. L'orario di punta è la mattina, dalle 7 alle 8 e mezza, 9. E poi tutto l'orario che va dalle 2 alle 7, piena. Quindi diciamo quelle ore in cui si sta bene il metro sono veramente poche. No, vabbè, ovviamente dipende anche da la direzione. Io prendendo la linea verde, che è quella centrale, tra virgolette, che è la metro 2, è sempre pienissima. Allora, l'assetto è questo. Vabbè, qui c'è il piccolo purificatore d'aria. Lì sopra ho messo le robine, diciamo. Vi faccio dare una sbirciatina. Vabbè, le mie mascherine, i miei gioielli, perché non so mai dove metterli, i caricatori, cose, eccetera, la borsa. Qui dentro non ve lo apro perché è il mio cassetto di tutte le robine. Qui in mezzo invece ci sono cavi, cose, eccetera. E questo invece è il cassettino di Ross. E le ho messo qua dentro le cose che le ho preso questi giorni. Poi qui ho lasciato le valigie perché non so dove metterle. Lì ho lasciato i trucchi perché non so dove metterli. Ecco, la cosa che devo mettere a posto sono le scarpe, perché se poi ovviamente lei ha anche dovuto metterle qui è un po' un problema. Però stavo pensando, praticamente qui dentro, dovete sapere che c'è la stanzetta appunto della lavatrice, che è qui da questo lato e c'è questa struttura. Adesso io penso che prenderò questa struttura e la metto qui fuori. Almeno ci possiamo mettere un po' di cose. L'unica cosa da fare è sistemare qui dentro. Quindi questo è sostanzialmente, manca solo lei. Infatti questa sarà l'ultima clip per questo video. Dopodiché ci vedremo direttamente con il prossimo video dove appunto andremo a prendere Ross. Passeremo i primi momenti insieme. Come se fosse una nuova, nuova avventura. Perché appunto fino a questi giorni, come avete visto, sono stata sola. Poi sono venute le altre mie amiche. Però loro non sono qui in casa con me, ovviamente. Ross sarà qui con me, quindi sarà proprio una cosa diversa. Detto ciò, quindi per questo video è tutto. Spero che questi giorni che vi ho ripreso vi siano piaciuti. di avervi portato in posti interessanti. Ci vediamo appunto al prossimo video. Finalmente con la Ross, così finiscono di arrivarmi i messaggi. Ma dov'è Ross? Ma quando arriva? Eccetera, eccetera, eccetera. Vi mando un bacio grande. Ci vediamo presto. Ciao!